buongiorno ben ritrovati cari telespettatori buon inizio settimana soprattutto oggi è il 13 di giugno e questa è la rassegna stampa di fano tv che comincia oggi vi porta un raggio di sole ovunque voi vi troviate anche perché se aspettiamo il cielo caro mio anche oggi abbiamo una giornata che si apre all'insegna del maltempo lo vedremo tra un istante andiamo adesso subito con il santo di oggi oggi la chiesa cattolica qui ragazzi non c'è bisogno di presentazioni oggi il santo è un santo non famoso di più e sant'antonio da padova così ci indica il martiriologio del di oggi sant'antonio da padova che nacque a lisbona nel 1195 si chiamava fernando nome che cambiò in antonio quando entrò tra i frati minori e quindi auguri a tutti quelli che portano questo nome sole sorto alle 5 25 tramonterà alle 20 e 51 allora andiamo a vedere il tempo per oggi avremo un cielo nuvoroso con schiarite soltanto in serata avremo rovescio temporali sparsi più insistenti nelle zone dell'entroterra anche qui gli fenomeni si esauriranno nel corso della giornata quindi insomma avremo ancora una mattinata e un pomeriggio un po così le temperature sono in ulteriore diminuzione in particolare nei valori minimi per quanto riguarda la giornata di domani martedì 14 resta ancora vedete residua instabilità locali rovescio temporali soprattutto intorno a mezzogiorno nella nelle zone però dell'entroterra nelle zone dell'appennino le temperature sono in aumento mentre vedete lungo la costa per fortuna torna a splendere un po di sole anche se le nuvole sono sempre lì ogni tanto ad oscurarlo probabile miglioramento delle condizioni meteorologiche secondo la protezione civile della regione Marche durante il resto della settimana con prevalenza di sereno ed una lieve instabilità pomeridiana nelle zone interne c'è un fatto di cronaca che vi dobbiamo raccontare un fatto di cronaca che parte da una festa una festa che si stava preparando a pesaro a pantano una festa parrocchiale a un certo punto arriva un uomo un uomo che punta un coltello lungo con una lama di 20 centimetri alla gola ad una donna si tratta di una questione tra uomo e donna una questione tra marito e moglie ne parlano tutti e tre i quotidiani e tutti e tre i quotidiani pubblicano una fotografia che è quella dell'agente di polizia che mostra appunto il coltello che questo uomo ha utilizzato per aggredire la moglie terrore alla festa della parrocchia vedete aggredisce la moglie con un coltello è entrato nel cortile della chiesa e ha puntato questo coltello alla gola della moglie ti ammazzo le ha gridato insomma poi ci hanno pensato per fortuna a salvarla le persone presenti lì durante questo momento conviviale durante questa festa e lui naturalmente è stato rintracciato dagli agenti della polizia ed è stato arrestato vediamola dunque anche sugli altri giornali il resto del carlino due pagine dedica la 2 e la 3 noi leggiamo la pagina 3 questa mattina coltello alla gola della moglie mi tradisci ti ammazzo paura durante i preparativi per la festa pantano 85 una festa che ieri intorno alle 19 appunto sabato sera intorno alle 19 in questi spazi all'aperto ha vissuto momenti davvero di terrore nella chiesa dei cappuccini dove appunto erano in corso questi preparativi protagonisti un marocchino marocchino lui regolare di 49 anni operaio nel settore edile residente a Colombarone e la moglie di 48 anni italiana a lui legata da più di 13 anni il carlino poi racconta in questa pagina anche i precedenti con l'acido in faccia ormai la storia di Lucia Annibali poi l'ultima l'ultima in ordine di tempo i colpi di Mattarello a quella povera donna di Mercatino Conca e poi l'uxoricidio Nicolae Roset lo ricorderete un moldavo di 52 anni che ha ucciso la moglie Svetlana di 47 anni a Piobbico nel dicembre del 2014 anche sul messaggero coltello alla gola della moglie ti ammazzo terrore la festa parrocchiale di Pantano i presenti reagiscono con sedie e bastoni e lo mettono addirittura in fuga la polizia però poi lo raggiunge a casa e lo arrestano la fiction della RAI su Lucia Annibali l'abbiamo citata poco fa lei ha voluto partecipare anche alle riprese ma soltanto sul set tanto per vedere in tribunale un po' qualche scena Lucia non è mancata alle ultime riprese della fiction della RAI io ci sono, questo è il titolo, girate ieri in tribunale Annibali in questi giorni ha seguito spesso le riprese soprattutto nelle scene cruciali sempre vicino al regista Luciano Manuzzi da quella dell'aggressione girata martedì scorso in un appartamento al centro Benelli al tribunale appunto dove sono state registrate le scene del primo incontro tra Lucia e Luca Varani il sindaco di Pesaro scrive i pesaresi arrivano le asfaltature, centinaia di lettere alle famiglie per informare dei lavori e per scusarsi dei disagi ne varrà la pena dice lui, dice Matteo Ricci visto poi che insomma di asfaltature c'era bisogno imporre le mani non è reato archiviate le accuse alla Cutolo la stessa procura ha chiesto di non procedere nei suoi confronti il giudice è stato d'accordo imporre le mani non è un atto medico dunque Rita Cutolo non ha praticato alcuna professione abusiva e neppure approfittando della credulità popolare la notizia di reato dunque è infondata con queste parole il GIP di Perugia ha archiviato il caso della donna magnetica o calamita così come veniva ad alcuni chiamata a cui ogni giorno si rivolgono decine di persone con disturbi di tutti i tipi anche gravi come tumori o SLA andiamo sulla pagina 42 del messaggero perché si parla del nuovo ospedale c'è stato l'incontro a Fano l'altra sera nella Sala Verdi una Sala Verdi piena, gremita fuori alcuni che protestavano che non sono potuti entrare alcuni soprattutto dei comitati qualche soggetto politico dentro invece tutto il resto, tutti gli altri delusione però dopo l'assemblea con Ceriscioli appunto dell'altra sera Fano domani il movimento dei contrari cercherà comunque chiaramente in Regione nuovo ospedale, il titolo i comitati del no già affilano le armi sotto De Marchi seguono il piano in modo testardo ignorando le potenzialità delle strutture esistenti mentre distretti sanitari chiusi al sabato la CISL, famiglie penalizzate il problema riguarda i comprensori di Urbino i sindacati chiedono subito un incontro con l'area vasta e dopo la bomba d'acqua dell'altro giorno si contano i danni il sindaco chiede lo stato di emergenza il sindaco Nicola Barbieri il sindaco di Mondolfo sono stati giorni molto difficili dice lui ringrazio tutte le persone che hanno dato una mano per risistemare ma ancora ci sarà molto da fare lo scoppio di Milano se ne parla anche sulla pagina delle Marche perché quella tragedia ha colpito anche la nostra regione Riccardo e Chiara sono morti nello scoppio di Milano i fidanzati di 28 e 27 anni erano infatti di Morrovalle e Monte San Giusto lui stava finendo gli studi in economia lei invece muoveva i primi passi da stilista è stata aperta un'inchiesta da giorni si sentiva odore di gas il problema meccanico dietro il crollo Riccardo Maglianesi si era laureato alla Politecnica delle Marche aveva terminato il master alla Bucconi Chiara Magna Massa dopo il linguistico aveva invece cominciato a creare scarpe e i genitori hanno un'azienda il cugino dice bravo e affettuoso oggi avrebbe iniziato a lavorare in banca Erasmus a Parigi Tirocino a Los Angeles poi l'incontro con il suo grande amore una ragazza splendida e piena di vita guardate qui la fotografia ormai diventata nota alle cronache la palazzina che è crollata sventrata dal boato e adesso cambiamo giornale velocemente il Corriere Adriatico di Pesaro la ripresa non crea occupazione il 2015 è stato l'anno nero l'amarezza della CGL la nostra provincia la provincia di Piesa Urbino è la peggiore del centro Italia l'analisi dei bilanci mostra le carenze del capitale del rischio i residenti in cerca di lavoro sono 18.300 pensate il dato più alto dal 2008 in 7 anni l'industria ha perso un addetto su 3 e poi dalla pagina di Fano lo sport che ha salvato di fatto il turismo il presidente degli albergatori elogia gli organizzatori degli eventi di bassa stagione Cecchini dice gli eventi culturali hanno un grande rilievo per il nostro settore fiducia alla carnevalesca parla chiaramente il cugino dell'ex presidente Luciano Cecchini che guidava fino a qualche mese fa la carnevalesca di Fano a sapore ai motori invece sapore ai motori un tuffo nella storia dell'automobile dopo un sabato rock caratterizzato da distorsioni elettroniche è arrivato il momento poi delle auto d'epoca sinistra, governo e democrazia Bettini ora ascoltiamo la gente il libro del parlamentare europeo crea un ponte tra Berlinguer da Berlinguer e Renzi andiamo sull'altra pagina andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico quanti di voi che ci stanno seguendo in questo momento hanno partecipato alla macerata Loreto centomila pensate centomila sotto la pioggia con canti e preghiere centomila fedeli l'arrivo a Loreto dopo una notte in cammino con le benedizioni del cardinale Menichelli guardate che splendida immagine che tra l'altro viene riproposta perché è bellissima tutti gli anni dai quotidiani questo arrivo questa discesa questo arrivo dopo una grande camminata che è durata tutta la notte l'arrivo nella piazza di Loreto con la Madonna la Madonna nera che viene portata in spalla con canti, preghiere tanta fatica ma alla fine tutto è andato bene i pellegrini si sono ritrovati intorno alle 21.30 all'hotel allo stadio scusate Elvia Recina di Macerata in ventimila poi si sono aggiunti lungo la via chiaramente fino ad arrivare a centomila c'è anche chi non ce l'ha fatta c'è anche chi come spesso succede no? chi non è abituato chi magari pensa che sia facile e quindi la percorre prendendola così come prima volta un po' con solo con un po' un po' di allegria e un po' di speranza ma poi dopo al lato pratico è difficile davvero però alla fine anche con un po' di fede ci si arriva e si arriva alla meta andiamo sulla pagina di Senigallia Movida con le gare dei Rishow proteste pure per la musica alta fioriere danneggiate e segnale di velto in centro storico sono insomma questo per dire ci sono questi Rishow elettrici a Senigallia adesso vedete sono sempre un po' avanti anche Senigallia vanno alla grande però ecco ci sono anche queste gare che probabilmente non a tutti vanno bene e poi anche qua si parla della bomba d'acqua a Senigallia la Lega punta il dito contro il Comune frutto di incuria non è concepibile che dopo il 2014 la manutenzione dei fiumi e dei fossi non venga messa al primo opposto tagli al territorio siamo sulla pagina di Pesaro e Provincia tagli al territorio il timore di Ceriscioli agli ospedali convertiti devono restare 70 milioni ma credo che l'input non sia stato rispettato da Fossombrone invece il neosindaco dei 5 Stelle Bonci risponde all'invito dei comitati per la salute riunione a Fossombrone il 21 di giugno gli organizzatori non era mai successo ironia sul nosocomio unico e sotto invece da Urbino Gambini Stromette Crespini il PD crisi ormai definita Francesca Maria Crespini il sindaco ha comunicato all'assessore il ritiro delle deleghe il Movimento 5 Stelle dicono non hanno un accordo sui programmi e poi altre notizie che naturalmente potrete leggere sulle pagine dei quotidiani oggi in edicola che essendo lundì hanno comunque gli inserti dedicati allo sport il nostro appuntamento con i giornali con la rassegna stampa finisce qui non mi rimane altro che augurarvi una buona giornata e ci rivediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci e ci rivediamo a tutti i giornali